Grande successo ieri per la nuova tappa di Conoscere Gubbio, giunto alla ventesima iniziativa. Il ciclo di appuntamenti culturali promossi dall'Associazione Maggio Gubino quest'anno è stata dedicata alle bellezze del Palazzo Ducale, delle ceramiche del Magni e le tavolette di Taddeo di Bartolo e al restauro del Duomo, con una affollata passeggiata curata da Ettore Sannipoli per la mostra del Magni e dalla dottoressa Paola Mercurelli Salari, direttore del Palazzo Ducale, che hanno illustrato con grande passione e competenza le straordinarie ricchezze. Dopo il saluto del presidente del Maggio Gubino, Lucio Lupini, e del curatore della mostra del Magni, Ettore Sannipoli, il sindaco Stirati ha omaggiato l'iniziativa, complimentandosi, ripercorrendo le tappe della ceramica in Umbria, inserendo Gubbio negli itinerari più importanti, tra i quali il rapporto di convenzione con Deruta sia per il design della ceramica stessa, ma anche inserendolo nella logica delle scuole per aprire nuove vie e coniugare le attività con il turismo. Il giro è stato condiviso con un foltissimo numero di partecipanti, scoperto e riscoperto le straordinarie ricchezze della nostra cultura, terminato nel Duomo con la preziosa illustrazione di Anna Flavia Rossati e Paolo Salciarini, che hanno dischiuso al pubblico i grandi ed evidenti interventi di restauro, restituendo alla città il suo Duomo. Conoscere Gubbio ha così accolto i suoi partecipanti alla cena conclusiva allestita nel Palazzo Ducale e degna conclusione di una giornata da approfondire meglio alcuni dei tesori della città e riassaporarne l'atmosfere. Un plauso da parte di tutti i partecipanti e curatori dell'iniziativa che hanno fornito il loro sapere e trasmesso la loro grande passione all'Associazione Maggio Gubino, che ribadisce anche con queste iniziative la propria vocazione a valorizzare al meglio il ruolo di impulso culturale per la comunità.